Sarebbe stato un cortocircuito dovuto ad una presa di corrente difettosa a causare l'incendio al ristorante L'Elefante Bianco di Via San Leonardo a Salerno. Intorno alle 18.30 di ieri, quando l'esercizio pubblico era ancora chiuso, alcuni automobilisti che transitavano in Via San Leonardo hanno notato una densa nube di fumo e lingue di fuoco che fuori uscivano dalle finestre del ristorante ed hanno subito avvertito i vigili del fuoco. I caschi rossi immediatamente giunti sul luogo hanno provveduto a domare il rogo sprigionatosi dal locale cucina, spegnendo le fiamme che rischiavano di propagarsi nelle altre sale del ristorante e nel resto della palazzina. Danni ingenti all'esercizio pubblico, completamente distrutta la cucina e nella sala ristorante a causa del forte calore sono stati danneggiati gli infissi, gli arredi e le suppellettili. Sul posto anche i carabinieri di Salerno che hanno appurato che, con molta probabilità, si è trattato di un incendio dovuto ad una presa di corrente difettosa che ha causato un cortocircuito. Probabilmente si tratta della presa di corrente di uno dei frigoriferi che si trovavano nel locale cucina. Fortunatamente il personale del ristorante non era ancora giunto al lavoro e dunque nessuno ha corso rischi.